Aaaaaah, che mal di piedi! Ma dove stiamo andando? Tanto l'ho già capito che questa strada non porta da nessuna parte! Aaaaaah, sono stanco! Basta, basta camminare! Basta! No, stendimi! L'ho detto stendimi! Stendimi, scendimi, scendimi! Aaaaaah! 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 In piccolo recitare è come ogni volta un po' morire, un po' morire al mondo, sottrarsi al mondo, per potersi in realtà offrire al mondo. Spingere lo sguardo! Ove era stata quella loro città, si vedono cani, dal muso luccicante, e gli avvoltò i più belli volare sopra le rovine, marciando di cadavere in cadavere, belli grassi di cibo! Credo che di questo si tratti, di ispirazione, o di quello che Stanislavski chiamava il lavoro dell'attore sul personaggio, quando lui diceva, suddivideva il lavoro dell'attore in due fasi, cioè il lavoro dell'attore sul personaggio, quindi prima di andare in scena e poi il lavoro dell'attore in scena. Oveata la mano, abbraccia le mie ali e danza con me, leggera, ti reggerò nel volo! Grazie! Grazie! Grazie!